Do you want to know a secret? Adesso so che è un po' tardi, però non mi ricordo né quando è incominciata né quando è finita, oggi che registro è l'11 di giugno, qualcuno mi può gentilmente dire quanto è durata? Comunque andiamo all'avventura e direi di partire dalla prima isola che è esattamente questa qua. Allora, le missioni con il fantasmino sono semplicemente delle missioni bonus che vi daranno dei premi. Qua ti dice, cattura un sea pony, un cavalluccio marino piccolino, nel capitolo 2 showdown. Quindi vi basterà trovare un cavalluccio marino per ricevere un cavalluccio giovane o giovane credo, o vecchio non mi ricordo, cioè non so, forse giovane o adulto. Mentre, 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 più giù andiamo più le ricompense si fanno belle perché alla fine riceviamo 3 rainbow gems. Che qua dice, usate lo speciale di Luffy per uccidere il re dei mari. E così è stato, vi basterà prendere Luffy della storia ovviamente. Adesso andiamo a vedere. Poi ci sono alcune che vi servirà un amico perché non potete farle se no, come mettetevi tutti dei personaggi strani in squadra e vedete che ci riusci. Ad esempio questa qua, usate lo speciale di Coby al capitolo 3 e se non avete, se avete Coby ancora buono, se non avete Coby dovete cercare di riprenderlo. Poi battete il capitolo 3 usando solo Miss Monday come capitano. You can use any friend or helper capitano. Quindi Miss Monday, Miss Monday, io non credo di avere Miss Monday. Ok, io che non ho Miss Monday, che è quella che vedete, in sovraimpressione, è un po' difficile fare quella missione. Poi andate 3 with smooth smooth fruit iron may salvita ex capitan. Spero sia lei. Smooth smooth fruit, ok, direi di fare questa per ricevere una elder turtle, se non sbaglio. Questa Iron Sea, sì, sì, è yellow elder turtle, ok, quindi ci vediamo alla fine della missione, non vi sto a far vedere tutto quanto il pezzo e a tra poco. Ah, e il capitano potete scegliere qualsiasi, io prendo un zoro tanto per. E ok, appena avete battuto, avete fatto quello che vi chiedeva nella missione, vi apparirà subito, boom, mission clear. E allora è a dretto alto, bla 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 bla, quello che c'è scritto nella ricompensa. Ho un attimo da vendere e vi apparirà così, con la scritta clear. Poi, ah, showdown Iron Man with 15 taps, ok. Questa sfida qua è semplice da capire. Dovete battere il capitolo 3 con meno di 15 taps, quindi dovete avere dei pg con tanto attacco che riescono a uccidere tutti quanti in un solo colpo. Questa qua invece è più complicata come missione e dovete affrontare il capitolo 3 di Alvida usando come capitano sia vostro che del vostro amico, Kobe, il Cannoneer Cub in Kobe. E poi in squadra dovete avere per forza uno striker fighter, uno slasher verde, uno striker blu e uno shooter rosso. E ovviamente Kobe per ricevere una tartaruga anziana blu. Questa qua è in realtà più difficile delle altre perché dovete avere sia voi, sia voi il Kobe, sia il vostro amico. Mentre poi, diciamo che nelle altre missioni, perché mi va indietro, ci sarà il tipo del farming. Adesso io non so bene qual è la missione del farming, ma vi dirà di, eccolo questo qua è il farming, dovete catturare i 30 cannonieri, pistol, elbred o bla 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 bla. O questo qua, in Sheltown, quindi in tutta quanta la mappa. Se ve le completate tutte quante, non credo che vi dia un altro regalo in più, extra, non credo. Credo che finiscano lì così. Se non avete alcune unità, cioè alcuni personaggi, vi è un po' difficile completare determinate missioni. Se vi posso essere utile in qualche modo, aggiungetemi gli amici e se avete, scrivetemi o su YouTube nei commenti, sotto i commenti, o se no mettete mi piace alla pagina Facebook e scrivetemi là per eventuali missioni bonus di One Piece, perché così almeno entro e faccio quello che mi chiedete. Moageri, non so neanche per ora chi sono, deal a total at least 100.000 damage using only regular attacks, recruit un blue treasure turtle in orange town. Vedete, tutte le missioni, tutti i farming sono, non è tanto difficile. Ok, questa la facciamo e datemi solo un secondo per fare la squadra e ritorniamo subito in missione. Qua non prendiamo nessun amico, si va giù giù giù. E Zoro costa 15 e Luffy costa 15, quindi nessun tipo di sgamo. Abbiamo il costo sotto il 30, 30 o sotto, e noi vi faccio vedere il video. Ed ecco fatto. Quindi ragazzi, io spero di esservi stato utile, intanto andiamo un attimino qua, l'ho finita qua la lista, no. Io non ho ancora finito la lista, amici, ne mancano ancora una ventina. Quindi ragazzi, se posso esservi utile in qualsiasi modo per finire queste missioni, chiedetemi pure l'amicizia e non esitate a contattarmi per qualsiasi cosa. E scrittemi nei commenti se vi sono stato utile in un qualsiasi modo. E niente, non potrò farvi il video delle evocazioni perché mi sono dimenticato di evocare. Bene ragazzi. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, un commento. E noi ci vediamo al prossimo video di One Piece. Ciao ragazzi. 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 Grazie a tutti.